26 e 27 di maggio siamo ormai alle porte del 17esimo congresso della Wilm, allora segretario quali saranno i temi che verranno affrontati in questa importante assise? I congressi sono l'occasione per fare prima un consuntivo di quanto ho fatto nei quattro anni precedenti e soprattutto porre le basi per il futuro e purtroppo parlare di futuro a Taranto è molto complicato, ci sono tante vertenze, ci sono tante come dei nubi all'orizzonte che sicuramente in quelle due giornate, grazie anche all'apporto di autorevoli esponenti e non solo sindacali, noi pensiamo di cominciare a lanciare qualche messaggio forte su quale possono essere alcune soluzioni che noi pensiamo che siano utili per questa città e per queste province. Mi faceva riferimento ad una città, ad un territorio che ha diverse vertenze, però la madre di tutte le vertenze è quella dell'ex Silva, a che punto siamo nel rapporto con la grande industria e se è cambiato qualcosa da una gestione privata ad una gestione mista pubblico-privata? Ma potrei dire tranquillamente purtroppo, non è cambiato praticamente niente, nel senso che noi il pubblico l'abbiamo visto solo nell'erogazione di fondi che sono dei cittadini italiani, quindi nostri, ad una società che continua ad andare in modo unilaterale nel suo percorso senza tenere nessuna considerazione né la città né soprattutto i lavoratori, sia quelli diretti che indiretti. Quindi anche questo problema che abbiamo più volte posto a questo governo che fino ad oggi purtroppo è sordo, anche ieri sera approfitto, c'è stato un incontro con una viceministra il quale ha candidamente detto che il dossier ex Silva è in mano sola al ministro Giorgetti e che non è di materia né di confronto fino ad oggi e nemmeno ovviamente di discussione. Quindi la grande industria, ci aspettiamo che il governo Draghi, ci aspettiamo che Draghi finalmente tolga dal cassetto il dossier ex Silva perché altrimenti credo che siamo già, l'abbiamo fatto notare anche ieri, siamo all'esasperazione e molti dipendenti che sono in cassa da ormai da anni senza contare l'appalto, che siamo nell'assurdità che si lavora e poi arriva al fine mese e l'azienda candidamente li comunica che non ha i soldi perché la committente non paga. Quindi problemi occupazionali, disagio sociale, problemi ambientali che non siamo ancora a livello di annunci. Vorremmo, ripeto, vorremmo che finalmente ci dicessero quale è l'ilva del domani. Noi siamo pronti a qualsiasi discussione, sapendo, e l'abbiamo detto a chi è l'elettore, ripetiamo, non siamo disponibili né a baratti su salute e lavoro. Vorremmo che finalmente si concentrasse e risarciiscano, come hanno detto nel passato, risarciiscano questa città, questi lavoratori, questi cittadini. È stato fatto tanto danno, probabilmente si sta continuando a fare, anzi sicuramente in modo minore, ma sicuramente si sta continuando a fare, quindi la cosa che non ci aspettiamo è cosa ci aspettiamo da andare al governo in breve, che finalmente si apra un tavolo di discussione, che finalmente la questione venga discusse e ci sia finalmente una soluzione. Ripeto, qualsiasi sesso sia, una cosa non concepiremo e non permetteremo, che al danno subito dalla città, dai lavoratori, su salute e nell'ambiente, poi il conto venga pagato con la beffa di un licenziamento di massa o di una cassa integrazione a vita.